Il personale SIO in questi giorni sta coaduando i carabinieri delle stazioni del nucleo operativo radiomobile del reparto territoriale di Vallo, già impegnati nel contrasto di gruppi criminali dediti ai furti in abitazione e ha notevolmente incrementato l'attività di sorveglianza anticrimine nell'ampia fascia territoriale a sud del capoluogo salernitano con il controllo delle autovetture in transito e di persone sospette. Ebbene dall'inizio delle operazioni sono stati sottoposti a controllo 64 veicoli identificate, 81 persone sequestrate a sostanza stupefacente segnalate 4 persone come assuntori alla prefettura di Salerno. Per consentire un efficace intervento del personale dell'arma i cittadini è richiesta collaborazione nel segnalare nel più breve tempo possibile al numero di emergenza 112 la presenza di persone o autovetture sospette notate nei pressi delle abitazioni, ovvero segnalare furti subiti o tentativi di essi al fine di consentire un rapido intervento dei carabinieri con le squadre specializzate a supporto e soprattutto l'attuazione di piani operativi a più ampio raggio in grado di intercettare eventuali persone ed auto in entrata nella zona o che cercano di allontanarsi dal territorio.